Ciao nonno, i miei amici sono venuti a guardare la tv, ok? Billy, mi aiuta il nonno a mettere questa forchetta nella presa No nonno, finirei nei guai Uccidimi, dannazione! No, non posso ucciderti Allora fammi uccidere da uno dei tuoi amici, tu potresti uccidermi ciccione? Non potrei mai uccidere qualcuno, a meno che non mi offendessi Oh, e questo è il problema? Allora lascia che ti dica una cosa, maiale Tua madre era lì sul divano prima e me la sono scopata come una vera troia Casa? Proprio così Nonno! E dopo ho preso anche lo scheletro di tua nonna e mi sono scopato anche quello Ehi! E' proprio una gran troia tua nonna Vecchio pervertito, ti ammazzo! Così si parla, cazzo!